Tra il 29 ed il 31 luglio, chi si troverà ad Arezzo potrà viaggiare a spasso nel tempo. Il comune lancia infatti un nuovo festival, Arezzo Back in Time, una rievocazione storica multiepoca che permetterà di vivere esperienze uniche legate all'epoca romana, quella medioevale e al rinascimento, grazie alla presenza di oltre 50 gruppi storici e 700 figuranti. Si tratta di un evento dove circa ad oggi 50 gruppi storici, quindi si parla di più di 700 figuranti, riporteranno la città indietro nel tempo in tre epoche differenti. Questa è la particolarità che differenzia questo evento da tutti gli altri che ci sono in giro nel mondo. Quindi abbiamo pensato a tre grandi aree, la prima che sarà l'anfiteatro dove ovviamente ci sarà l'epoca romana, la seconda tutto il rinascimento in piazza grande e l'ultima, la parte più massiccia, sarà la fortezza del prato che sarà medioevale. Ci saranno innanzitutto accampamenti stabili che per tre giorni vivranno proprio in queste zone, quindi alle tre di notte troverete persone che dormono o che mangiano. In più ci saranno eventi di ogni genere, quindi battaglie, ci saranno cose per bambini, ci saranno rievocazioni di mercati, di antichi mestieri, quindi si ritorna proprio indietro nel tempo con la città allestita soprattutto con grande cura da parte dei gruppi storici e professionisti. Il festival sarà tre giorni, però abbiamo pensato che i tre giorni precedenti stiamo già lavorando per degli eventi collaterali sempre su sfondo storico, uno di questi dovrebbe essere molto particolare fatto da Lindo Ferretti che con dei cavalli al tramonto fa una cosa molto bella e insieme a questo ci sarà il giovedì, quindi il giorno prima dell'evento, un po' una sfilata di tutti quelli che sono i gruppi e più tante altre cose che vi dirò più avanti che vi tengo ancora un po' a segrete.